Salve a tutti e ben ritrovati all'AgriWeek Recap. Questa è la centesima puntata di questa rubrica che abbiamo voluto con forza per comunicarvi le tante cose che facciamo in agricoltura in questa regione. Un'agricoltura bellissima, imprenditori vivacissimi, ma che merita di essere raccontati. Cerco di fare del mio meglio e spero anche di essere all'altezza di questo ruolo. Intanto questa è stata una settimana molto impegnativa, mi trovo qui verso l'ordine dei dottori commercialisti di Aversa, di Napoli Nord, abbiamo fatto una riunione, una tavola rotonda con tutti i presidenti degli ordini commercialisti della regione, abbiamo rappresentato le novità del PSR, ci siamo interfacciati, abbiamo anche rafforzato un link tra la professione di dottore commercialista e il sistema dell'agricoltura della nostra regione. Ci saranno tante altre occasioni di confronto, abbiamo avviato un ciclo che immagino potrà proseguire anche presso gli altri ordini professionali. Questa settimana è iniziata con un evento importante, un evento sugli strumenti di gestione del rischio, un evento che abbiamo organizzato con l'Università Federico II, con il professor Fabian Capitano, abbiamo discusso delle potenzialità inespresse anche nel nostro paese di questi strumenti e della necessità per una regione come la Campania, ma direi per tutta l'Europa, di enfatizzare l'importanza di questi strumenti e accompagnare anche le imprese in una gestione più oculata dei propri rischi. Sempre sullo stesso tema, anche oggi ho avuto un incontro via web con la Commissione europea e con il coordinamento del Comitato delle Regioni per avviare una discussione anche a livello europeo. Stiamo partendo adesso con la nuova PAC, ma è forse il caso di soffermarsi su questi strumenti che forse hanno avuto poca attenzione nella fase di negoziazione con gli Stati membri e che forse noi possiamo riporre al centro dell'attenzione attraverso una oculata discussione. Cercando anche di essere più competitivi con gli altri sistemi, penso per esempio agli Stati Uniti dove le risorse impegnate per questi strumenti sono molto superiori rispetto a quelle dell'Unione europea. Quindi è un tema secondo me considerato poco e noi stiamo facendo la nostra parte. Le riunioni sono state tante, gli incontri tantissimi, cercherò di sintetizzarli velocemente, abbiamo tenuto un tavolo verde importante nel quale abbiamo discusso di alcune tematiche, soprattutto dal punto di vista fitosanitario, abbiamo anche rafforzato l'alert sulla mosca orientale, abbiamo incontrato anche l'AMBI per discutere delle misure da mettere in campo per aiutare i consorsi di bonifica a svolgere meglio il loro compito. C'è stato il tavolo agroalimentare nel quale abbiamo discusso con gli stakeholders non presenti nel tavolo verde delle tematiche di attualità a partire dalla modifica del PSR alle altre questioni aperte, ai bandi che sono in pubblicazione e abbiamo condiviso un percorso anche di maggiore confronto reciproco. C'è stata la commissione consultiva pesca e cultura, c'è stato anche il tavolo azzurro, in entrambi abbiamo discusso della nuova strategia della pesca nella nostra regione, il FEAMPA sta per partire, nel mese di marzo ci saranno riunioni importanti, fondamentali e noi abbiamo voluto illustrare a tutti gli attori lo stato dell'arte. E a proposito di pesca ho partecipato ad un bel convegno presso la chiesa dei marinai di Napoli, una bellissima location dove sono stati presentati i risultati del progetto FIRM, un progetto che la regione Campania ha voluto accompagnare e che vede la partecipazione di tutti gli stakeholders di tutti i settori a partire dai pescatori, al CNR, alle associazioni ambientaliste, insomma davvero un bel progetto che mette in evidenza che davvero si può trasformare il rifiuto marino in una risorsa. Quindi complimenti a loro e ho voluto rappresentare la determinazione della regione a proseguire su questa strada per valorizzare davvero la risorsa mare. E per la pesca c'è anche una vera e propria good news, siamo l'unica regione in Italia che ha impegnato risorse per andare incontro alle esigenze dei pescatori che hanno subito danni per effetto dei lamento dei prezzi e della guerra in Ucraina. In giunta regionale tra l'altro abbiamo approvato anche la costituzione del Comitale di Sorveglianza regionale per la PAC 2023-2027 e abbiamo peraltro inserito anche rappresentanti del mondo delle professioni che sono tanto utili a mio avviso ad innalzare il livello della competenza della nostra regione. Ma in questa settimana abbiamo avuto modo di parlare anche di un tema a me molto caro, ho incontrato diversi dirigenti scolastici degli istituti agrali della nostra regione, abbiamo stabilito un percorso comune per rafforzare questo link e soprattutto per mettere a disposizione di questi istituti le risorse adeguate per creare delle vere competenze nella nostra regione. Ci saranno altri appuntamenti nell'immediato futuro, a partire anche da un incontro con tutti i dirigenti scolastici di tutti gli istituti agrari. Ma mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana e il saluto speciale di quest'oggi va a Guido, mio caro amico Guido e a tutti i Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti della Campania e a tutti i commercialisti, professione a me molto cara, ma che nel bel convegno che è stato organizzato hanno davvero dimostrato una grande attenzione per il mondo agricolo. Ciao a tutti!